E salve a tutti ragazzi, bentornati in questo mio nuovissimo video all'interno del mio canale. Allora ragazzi, da ieri è tutto ufficiale, Mikko Lazetic è un nuovo giocatore attaccante de Milan. Ma chi è Mikko Lazetic per chi non lo conoscesse ragazzi? Lazetic è un giocatore classe 2004, ex attaccante ormai de Patizan, cresciuto nelle giovanili della Stella Rossa di Belgrado, pagato 4 milioni di euro dal Milan a titolo definitivo, più un milione di bonus legato da presenze, gol e via di cento. E quindi di conseguenza il buon Pietro Pellegri se ne va a fanculo in Francia, a Monaco che poi successivamente sarà girato in prestito a Torino. E quindi ragazzi, diciamo che per l'attacco, diciamo che va benissimo così. Sempre meglio Lazetic piuttosto di un Pellegri sempre infortunato. Che poi Lazetic, ragazzi, voglio fare un discorso serio, aprire e chiudere una parentesi. Voglio fare un discorso serio. Indipendentemente che Lazetic faccia bene o meno a Milan, lasciatelo stare. Mi rivolgo soprattutto ai tifosi rossoneri. Non esaltiamo troppo questo ragazzo in cui, nel caso in cui faccia bene, così come non lo massacchiamolo troppo questo ragazzo in cui dovesse fare male. Quindi ragazzi, Lazetic è una scommessa per il futuro. Sicuramente non per l'immediato, perché per l'immediato serve altro in attacco a Milan. Questo ragazzo è una scommessa per il futuro. Quindi, come dire, il vero valore di Lazetic bisogna vederlo magari dopo un anno, un anno e mezzo di Milan. Mettiamola così. Quindi, se fa bene non va elogiato troppo, così come se fa male non va massacrato troppo. L'unica cosa che mi fa stare tranquillo a me personalmente, che comunque Lazetic è serbo. e si sa come funziona la mentalità in questi paesi proprio a livello di lavoro, dove sono dei maniaci proprio a livello lavorativamente parlato. Sono impeccabili, perfetti. Basti vedere la ex Jugoslavia che tipo di nazionale era, che tipo di squadrone aveva. Quindi, in questi paesi, in tutti questi paesi della ex Jugoslavia, che sia Ucraina, Serbia, Montenegro, puoi essere pippa quanto vuoi, però a livello lavorativamente parlato sono impeccabili. Comunque, di Lazetic, in Patia, ne hanno parlato tutti un gran bene. Questo ragazzo sembra che abbia tutte le carte in regola per sfondare nel calcio europeo e speriamo che nel Milan farà più che bene. Infatti, in tantissimi, già l'hanno paragonato il nuovo Vlaovic. I paragoni viaggiano che è una meraviglia. Manca il tempo di verterlo giocare. Già Lazetic è il nuovo Vlaovic. Ma che Cristo? Ma li volete lasciare in pace i giocatori? Fateli lavorare, sti cazzo di giocatori. Fateli lavorare senza nessun tipo di paragone. e basta. Poi, nel tempo, vedremo di che passo è fatto Lazetic, se in Milan effettivamente ha fatto bene a puntarci sopra o meno. L'unica cosa che mi storce un attimino il naso è che a Lazetic gli hanno dato la 22 di cacà. Per me, la 22, ragazzi, dovete sapere, è una maglia molto speciale, molto particolare. E' la maglia di Riccardino Cacà. Ma penso che chiunque di voi, tifosi rossoneri, un pochettino abbiano storto il naso di vedere Lazetic con la numero 22 di cacà. La maglia che è appartenuta al grandissimo Riccardino Cacà, che poi l'hanno data persino a Musacchio. Quindi questo fa capire tutto, come disonorare una maglia con un numero glorioso. Detto ciò, ragazzi, io alla fine dei conti sono tranquillo. Sono sicuro che Lazetic farà più che bene, perché lì, ripeto, in tutti quei paesi dell'ex Jugoslavia, a livello lavorativamente parlando, sono delle persone serie, precise, proprio dei veri maniacali sul lavoro. Ecco, mettiamola così. Sono dei totali maniaci del lavoro, lavorativamente parlando, ovviamente. Poi manca pur sempre il difensore, che a quanto pare ancora oggi, un altro giorno è passato, nel frattempo mancano tre giorni alla fine del mercato, ancora non è arrivato un cazzo di difensore. Io voglio proprio vedere se non arriva nessuno, come arriviamo fino a giugno con Gabbia e Romagnoli, in che condizioni ci arriviamo. Detto ciò, ragazzi, il video finisce qua. Voi, nei commenti, fatemi sapere la vostra opinione, cosa ne pensate di Lazetic, se secondo voi potrà fare bene o meno in questo Milan. Se il video vi è piaciuto, comunque, ragazzi, vi invito a lasciare un like, che è sempre ben accetto, è sempre ben gradito. Condividete questo e anche gli altri miei video. E soprattutto, ragazzi, dobbiamo iscriverci a sto cazzo di canale, ragazzi. Dovete iscrivervi, perché io ho video che passano le 200, le 300 visualizzazioni, però attualmente siamo ancora ad 11 iscritti. Ragazzi, non vi costa nulla. Vi guardate il video. Prima di guardarvi il video, andate sotto nella casella iscriviti, lasciate l'iscrizione, lasciate il like e poi aprite il video e ve lo godete in santa pace. Va bene, ragazzi? Detto ciò, il video finisce qua e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, belli!